Se si risponde con uno stato di emergenza significa che si dà ragione ai black bloc. Penso che bisogna sconfiggerli con la democrazia, consentendo che la piazza sia il luogo in cui le comunità si incontrano, esprimono il dissenso o fanno festa. Quando le piazze diventano scenari di guerra, davvero quello è un colpo al cuore della civiltà. Ma non si può impedire che la piazza viva di democrazia, perché altrimenti, insisto, si dà ragione ai black bloc.